Ho provato a correlare i dati della diffusione del virus sul territorio lombardo con i dati disponibili del trasporto merci e degli spostamenti della popolazione sul territorio di regione Lombardia. Questo studio, chiamiamolo di big data perché coinvolge una mole molto grande di dati, ha permesso di dimostrare e di spiegare lo strano fenomeno che c'è stato di ritardo nel contagio sulla città di Milano e sulla provincia di Monzebrianza. E uno dice ma che strano, l'Odi è così vicina geograficamente alla provincia di Milano, alla provincia di Monzebrianza, perché se il focolaio è partito dall'Odi è impattato di più su Bergamo, Brescia, sulla direttrice Pavia, su Cremona, che se poi andiamo a guardare le distanze proprio geografiche sono in linea con Milano, se non addirittura maggiori. Perché? Perché il trasporto merci e il trasporto della popolazione insiste di più sulle direttrici Lodi-Bergamo, Lodi-Brescia, Lodi-Pavia, Lodi-Cremona piuttosto che sulla direttrice Lodi-Milano. E questo può spiegare il perché Milano è arrivata ad essere contagiata più avanti rispetto a Bergamo, Cremona e Pavia, perché Monza è esplosa nell'ultima settimana, perché Monza è stata, diciamo, ad un primo livello protetta da Milano. Quindi c'è stato un primo livello di contagio che ha preso, partendo da Codogno, ha preso la città di Milano, scusi, la città di Bergamo, di Brescia, Cremona e Pavia. Poi le direttrici delle merci Bergamo-Milano, Brescia-Milano hanno infettato Milano su un secondo livello. E poi la direttrice Milano-Monzabrianza, che è un'altra direttrice molto molto forte, Milano ha infettato, tra virgolette, infettato la provincia di Monza e Brianza.